che ci dovrebbe essere intorno a ogni persona che fa questo mestiere. Vabbè, ma comunque non voglio assolutamente criticare una bellissima operazione televisiva. Allora, amico mio, nome e cognome? Ennio Salomone, Sicioleano. Sicioleano, e da dove? Sciacca, vicino a Vincenzo. Sì, conosciamo, le tournée a noi ci portano un po' dappertutto. Andiamo dappertutto, anche a Termini Merese, per cui non è che mi devi dito questa nazione. No, conosciamo in lungo e in largo questa nazione meravigliosa, però la Sicilia, ragazzi. Allora, carissimo amico di Sciacca, facci ascoltare questo sin titola, io ritornerò. Io ritornerò, sì, lo ascolto. A voi. Ho pensato di portarti in montagna, ma la neve non è mai il mare un po' più su. Ho pensato di cantare una canzone che potesse farti bene quasi come ha fatto bene a me, però, però... Io ritornerò a prendere le cose che ho lasciato lì da te. Io ritornerò a prendere le cose che ho lasciato lì da te. Io ritornerò a prendere i miei occhi e proprio tutto, tutto l'amore che ho, l'amore che ho messo nel cuore soltanto per te. Tutti insieme. Ho pensato di andare e basta. Ho pensato di andare e non tornare più. Ho pensato alla fisica quantistica. Da Ludovic e dal Perù. Ho pensato di toccare le tue labbra come fossero. Io ritornerò a prendere le cose che ho lasciato lì da te. Io ritornerò, io ritornerò a prendere le cose che ho lasciato lì da te. Io ritornerò a prendere le cose che ho lasciato lì da te. Una cosa carina non si può serenare. Intanto ce l'ha aggiunto anche Eleonora Bruni con la quale facciamo...